Credo che la mia entrata e il mio primo impatto con la grande fabbrica e con il lavoro non è stato dei migliori, devo dire, perché c'era ancora, non ho l'abitudine, si lavorava ancora dentro alla fabbrica dove c'era il capospada, c'era il primo, il secondo e poi dove veniva c'era… E io sono entrato come mozzo, come ero, e allora insomma la cosa non era, si doveva dipendere sempre agli ordini dell'operaio più anziano, l'operaio che aveva, e non era una cosa molto semplice, insomma i miei primi giorni sono stati, ti toccava i lavori un po' più sporchi, ti toccava i lavori più duri, Ed è uno che aveva già lavorato per una ventina d'anni dentro un'altra fabbrica, la cosa non è, però poi piano piano uno cerca di abituarsi, di andare avanti, di imparare, E di effetti poi passando, poi cambiando reparte, passando all'aggiustaggio meccanico, la cosa era, poi allora lì si lavorava con il disegno, si lavorava in un modo completamente diverso, E io devo dire che ho avuto, come dire, anche se il lavorare era sempre duro, azzazio a mattina, a fare sia duro, no, era duro, però c'era una solidarietà, c'era un'amicizia, C'era, si era creato un rapporto dentro la fabbrica, che era una cosa che a me, per quanto mi riguarda, mi faceva non pesare il fatto che io dovevo andare a lavorare, C'era un mio collega che mi diceva sempre, questa è la vera università, il fatto che tu impari da quelli che c'hai vicino, da tutto, impari tante cose, come si vive, il rapporto con la gente, Il rapporto con i lavoratori, cosa vuol dire lavorare, ecco, e per me, credo che l'Italia su idea è stata, dal punto di vista di conoscere come la vita, un po', come fare un po' di università, ecco. Nel 74 avevo già cominciato a fare le mie prime, come rappresentante di reparto, di un gruppo di operazioni, avevo cominciato a fare le mie prime lievi attività, si dà cali dentro la fabbrica e quello è stato uno dei momenti più brutti ma anche più esaltanti dentro la fabbrica, perché in quel momento si è visto veramente qual era la, come dire, tanto l'attaccamento alla fabbrica, perché è una delle prime cose, oltre che, come dire, operai che davano la sua disponibilità alle ronde, poi come sappiamo tutti, sono venute le ronde, sono venuti i presidi alle scuole, i presidi alle scuole, i presidi davanti ai centri importanti della città, si decise di salvaguardare quella che era la fabbrica, insomma. Allora facemmo i turni, si facevano le turnazioni e di notte tutto sul perimetro dell'aria etacide che andava sul mare, su tutto, si facevano queste ronde notturne, questo servizio di vigilanza, chiamiamola così, di vigilanza che ci portavano ad avere questo rapporto anche, non solo dentro la fabbrica, ma è cominciato poi proprio questo rapporto con la città. E devo dire che avevamo avuto un riconoscimento anche abbastanza importante, perché io mi ricordo benissimo che non passava giorno che c'erano giornalisti dentro la fabbrica, che venivano a chiederci il nostro pensiero, perché poi tra l'altro dalla fabbrica noi avevamo anche mandato alcuni documenti ai giornali, ma soprattutto dove si denunciava una certa diffidenza che avevamo di come si portavano avanti le indagini. Allora lì c'era stata, ripeto, un'attenzione grande da parte della città, anche dei media, su quello che noi facevamo, che ripeto era un'integrazione diretta con la città, perché molti di noi uscivano e facevano questa cosa. E poi l'attaccamento alla fabbrica, perché ripeto, non c'era giornata, non c'era ora, sia del giorno che della notte, che si faceva questo servizio. Fuori avevano le fasce, avevano quelle del servizio. E dentro invece facevamo, eravamo squadre di tre, tre, quattro, poi dipendeva anche un po' da dove si andava. Quando si facevano i bastioni giù per lungo il mare, che erano un po' isolati, che andavano isolati, allora si facevano dei gruppi di tre, quattro, e poi c'era anche sempre un picchetto fisso davanti alla portineria. Però prima di andare lasciavamo nome, cognome, insomma, per sapere dove eravamo, perché anche gli altri dovevano sapere chi c'era, dove eravamo, e soprattutto che tipo di percorso si faceva, perché avevamo preso la cosa abbastanza sul serio da questo punto di vista. Perciò il presidio durò a lungo ed era anche organizzato, direi dire, molto bene, ecco, da questo punto di vista, molto bene. Fuori in città si faceva giorno e notte, non è che si faceva, faceva 24 ore su 24. Perciò si cominciava dal mattino quando i ragazzi entravano in scuola e poi si andava avanti. E io insieme a altri ho fatto anche le mie tornazioni fuori, ma soprattutto essendo anche un po', ero in primi anni che ero un po' delegato del mio reparto, allora ero impegnato anche a organizzare un po' dentro, ogni reparto aveva il suo organizzatore, quello che organizzava le ronde, perciò io mi impegno, mi sono impegnato a organizzare un po' il mio. E ripeto, oltre a avere questo rapporto con la città, avevamo anche istaurato, proprio perché noi avevamo fatto alcuni documenti, proprio come rappresentanti del Consiglio di Fatica, che avevamo inviato sia la stampa, e allora si era creato anche con le forze dell'ordine, un aeroporto molto stretto, sì sì, loro erano venuti in fabbrica e ci avevamo fatto anche, noi ne avevamo parlato, loro chiaramente volevano sapere cosa facevamo, con chi si faceva e come si faceva, ma era giusto così. La cosa che fece esaltare il ruolo dello stabilimento fu, partì proprio dal fatto che da dentro la fabbrica si denunciò pubblicamente, diciamo attraverso questi documenti, perché c'erano consigli di fabbrica quasi permanenti, si discuteva, e si denunciò il fatto che le indagini, a quanto ci sembrava, non erano condotte con probabilmente l'impegno, diciamola così, che l'impegno doveva essere portato per fare quel tipo, e la discussione fu anche abbastanza forte dentro la fabbrica. Perciò, come dire, noi la mandiamo alla stampa, questa cosa qui, alcuni documenti li inviamo alla stampa, e di conseguenza la stampa pubblicò, e vabbè, insomma, sappiamo, la stampa era molto interessata, e ripeto, quasi giornalmente venivano a chiedere che cosa si faceva, da cosa noi ci venivano queste cose, ma, ripeto, per noi era più che altro una sensazione, non è che avessimo avuto delle prove schiaccianti su questo, perché noi eravamo operai, eravamo dentro la fabbrica, e non altri che avrebbero dovuto avere queste cose. Però devo dire che invece, diciamo, con le forze dell'ordine a livello di base, diciamo così, il rapporto era molto molto buono, molto stretto, molto, sia dentro ma anche fuori, insomma, non ci fu mai scontri, voglio dire, anche dal punto di vista, con le forze, no, no. Noi denunciamo il fatto che secondo noi, e poi fatti, tornando indietro, ci dettero un po' ragione. A quei tempi, dall'Ital Sider sono nate tante cose, non so se avremo occasione di parlarne, ma per esempio, noi avevamo un fondo speciale dentro all'Ital Sider, che era sul contratto nazionale, e che abbiamo voluto alla città, all'asilo, alle piramidi, è stato costruito, quei fondi dell'Ital Sider. Per esempio, all'ospedale, alcuni macchinari importantissimi, gli Alisi, furono comprati con i soldi che i lavoratori lasciavano in questo fondo, che era di carattere nazionale. Perciò, voglio dire, effettivamente Savone era presa come punto di riferimento, come laboratorio. In quel caso lì, come noi si pensava di difendere la città dalla strategia della tensione, che poi ebbe risonanza nazionale. Ma poi anche il servizio che noi facciamo sul territorio, proprio facendo anche iniziative di questo genere. L'asilo delle piramidi fu costruito, fu costruito in gran parte, fu costruito in quei fondi, credo che ci sia anche l'attacca, all'ospedale ci sono i macchinari in cui c'è la croce rossa, cose di questo genere. Sono state fatte da parte... Allora, noi in Italia avevamo un presidente che si chiamava Pertini, e che era un savonese, doc di Stella, dove abitava. Si pensò che sarebbe stata un'iniziativa. Intanto era una cosa doverosa portare il nostro presidente a visitare lo stabilimento. Cioè, siete che lui aveva avuto dei rapporti ai tempi dell'antifascismo e della deportazione. Ma soprattutto perché era anche un atto politico non indifferente. Parlare con Pertini, di fronte a tutti i lavoratori e le autorità, mettendo già sul piatto che si sentivano i primi sentori di crisi dello stabilimento, perché le cose cominciavano a non andare più di tanto. E io mi ricordo, perché io poi, insieme a un altro, consegniamo un libro della storia dell'Ital Sida, e lui non volevano che lui visitasse lo stabilimento, li mandò via di brutto, perché era un personaggio fatto così, e insieme agli operai, abbracciato agli operai, visitò tutto lo stabilimento. E poi portò il suo contributo sul palco e per noi fu una bellissima giornata, ma non solo perché era il presidente della Repubblica, ma perché era un savonese e lui aveva delle radici, infatti si commosse quel giorno, perché lui aveva delle radici che partivano da lontano, dall'Ital Sida e con l'Ital Sida e si erano trovati poi in situazioni di deportazione e cose di questo genere. Perciò, insomma, io me la ricordo perché ero ancora giovane di fabbrica, ma giovane di fabbrica e ebbi l'onore di consegnare insieme a un altro mio collega questo libro che facciamo fare, fotografico sulla vicenda, sulla storia dell'Ital Sida e di Savona e per me fu una delle giornate. E anche perché di lì si cominciava a capire già negli anni, alla fine degli anni Ottanta che la storia, cioè che lì cominciamo ad avere qualche problema anche dal punto di vista di continuità, poi venne fuori il fatto che ci toccò chiudere, poi ci toccò chiudere la fonderia che per noi era una delle cose, la fonderia, l'Ital Sida era un reparto storico, però poi l'avvento del lamierino, la fonderia fu portata a Trieste, si faceva solo a Trieste, insomma, gira le cose, non è che si sappiano sempre fino in fondo, però cominciò con la chiusura della fonderia, la chiusura della fonderia secondo il mio punto di vista fu l'inizio di una… poi diventavamo stabilimento di servizi, non eravamo più stabilimento grande produttore e noi costruimmo, l'Ital Sida di Savona costruì dal punto di vista di carpenteria tutti gli stabilimenti che ci sono in Italia, sono stati costruiti le carpenterie, sono state costruite tutta Savona, c'era la miglior carpenteria che esisteva a livello nazionale, credo, Savona, ma la chiusura della fonderia poi alla fine diventavamo, con grande discussione, con grande dispiacere, stabilimento di servizi, cioè noi facevamo servizi ripristini di grandi macchinari, per il stabilimento di Bagnoli, per il stabilimento di Taranto, per gli altri stabilimenti, ma la questione era che noi dipendavamo dal lavoro che altri ci davano, è chiaro che quando cominciò poi la crisi anche in altri settori, lo stabilimento di Savona fu uno dei primi a sentirne, a subire le conseguenze. Mi ricordo che sì, c'era un certo signor Prodi a quei tempi che guidava Liri e aveva quello che ha gestito poi tutta la partita della partecipazione statale. Purtroppo Savona, ripeto, toccò questa fase, ma le decisioni furono prese, non furono prese lontano e quando poi le decisioni erano prese era difficile tornare indietro, noi ce la mettiamo tutta, credo che una cosa che non si può dire è che ce la mettiamo tutta. Non escludo che ci fossero anche delle altre visioni non solo sul ruolo dello stabilimento, ma sull'area che lo stabilimento occupa.